L'organizzazione è organizzata bene e poi ci sta da dire che quando si fanno queste organizzazioni dove si mangia e si beve riescono sempre bene. E che dici? Che ci vuole? No, ancora non provo niente. Adesso ci accomodiamo. Spero fare bene, no? Sì, sì. Una bella serata ci può uscire. Sono uscito appositamente per assaggiare, guardare, gustare con gli occhi e con la bocca ovviamente. Comunque bella iniziativa e complimenti ad Alessandro, è una cosa molto originale e soprattutto buona per noi che amiamo il buon cibo. All'inizio sembrava che la pioggia potesse seriamente condizionare la buona riuscita dell'evento, ma nonostante qualche goccia iniziale tutto è filato liscio per il debutto di Street Food, il festival del cibo di strada, apprezzatissimo dalla folla di visitatori, soprattutto per la ricca offerta culinaria che andava dalla Paelia fino alla Riosticini di Pecora, alla Griscia di Amatrice, senza tralasciare le birre artigianali. Circa 70 specialità per un totale di 100 proposte culinarie, con 15 food truck. Che cosa desiderare di più? Buona la prima quindi per lo Street Food, che stasera e domani cercherà di bistare successo, anche se non sono mancati fuori programma riguardo l'errata disposizione di panche e tavoli al momento dell'accensione dei fornelli, subito ripristinata dagli organizzatori dopo una serie di segnalazioni partite alla polizia locale. Fortunatamente non sono arrivate contravvenzioni, ma poco ci è mancato. Altra nota dolente è l'apertura delle attività commerciali, che non si è prolungata fino a tarda serata, come ci si auspicava. Per il resto, emozioni, musica folla, applausi, non sono mancati anche per Omar Pedrini, che si è esibito in piazza 20 Settembre, per Angelo Ottaviani e la sua Easy Chitarra, che ha inaugurato la Kermesse nel pomeriggio sulla scalinata della Rotonda di San Francesco. Si tratta quindi di un buon avvio, soprattutto per una città che restia alle novità.